Le conoscenze più aggiornate nel campo delle scienze della Terra saranno a disposizione dei servizi geologici regionali grazie a Geoscience, una nuova infrastruttura di ricerca per la rete italiana dei servizi geologici, di cui fanno parte 13 università e 3 enti di ricerca coordinati da ISPRA, Servizio Geologico d'Italia. L'infrastruttura Geoscience sarà raggiungibile in modo permanente, consentendo l'accesso a tutti i dati, servizi, strumenti, applicazioni sviluppate. I servizi geologici regionali, utilizzandoli, svolgono con maggiore efficacia il proprio compito istituzionale e di responsabilità sul territorio. Geoscience è sviluppata da esperti in cartografia geologica, geologia marina, modellazione 3D, patrimonio geologico, frane, simcol, difesa del suolo, copernicus, tettonica attiva, geo-risorse, uso, consumo del suolo, banche dati, metadati e servizi. I contenuti di Geoscience saranno FAIR, findable, accessible, interoperable, under-usable. Geoscience è finanziato dal PNRR nell'obiettivo di realizzare un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione. Geoscience, geologia condivisa, un servizio per tutti. Grazie a tutti.